Fatturazione elettronica PA Zucchetti PA come pagamento assicurato PA come pubblica amministrazione PA come puoi adesso Grazie a Fatturazione elettronica PA Zucchetti digitalizzi le fatture e ti fai pagare dalla pubblica amministrazione anche dopo il 31 marzo 2015 Fatturazione elettronica PA puoi adesso Scopri di più su Zucchetti.it Zucchetti, la prima software house italiana Grazie a tutti